Murillo ormai ci siamo quasi ed era forse destino che vi ritrovavate di fronte a questa Pone Unigross e Pesaro le due squadre che hanno dominato il campionato Ciao a tutti, sì alla fine quelle due che hanno provato fino alla fine il Pesaro ha dimostrato che hanno arrivato tutte le finali e noi ci siamo provati pure, non siamo riusciti alla Coppa di Visione però il nostro obiettivo era vincere sia la Coppa Italia che la Supercoppa e arrivare più lontano possibile nelle altre competizioni e siamo arrivati anche in finale del campionato Nel suo cammino dei play-off, Pesaro è stato più spietato di voi perché ha vinto sempre voi che avete lasciato qualcosa, qualche partita, dagli errori si impara di più, non si impara qualcosa? Sì, sì, certo, possiamo dire solo i complimenti al Pesaro per aver vinto così le partite e noi abbiamo avuto delle partite veramente difficili e credo che è merito anche dei nostri avversari Che mi dici di questa squadra che ormai conoscete a memoria, l'avete già incontrata in campionato due volte è una squadra tosta come voi del resto? Sì, sì, è tostissima, le squadre di Colini o sia con quei giocatori che giocano sono sempre dure da battere però siamo arrivati qua e ci proveremo fino alla fine Come la state preparando? Domanda facile e al tempo stesso difficile? Allora, più concentrati possibile, con unione come quella che abbiamo sempre fatto che il forte della nostra squadra è il gruppo, che abbiamo un gruppo, una rosa lunga e stiamo preparando così Cominciate con due gare in casa, davanti al vostro pubblico a Montesilvano al Palaroma bisogna partire subito forte, Murillo? Sì, sì, per forza, sono due partiti importanti che se riusciamo a fare 2-0 sarà un bel passo per vincere la Coppa un'altra volta Senti Murillo, qui alle tue spalle ci sono tanti trofei vinti dalla società, dall'Acqua e Sapone e quasi tutti li hai vinti anche tu, ad eccezione di quelli giovanili perché sono 12 anni che sei qui nella società in pratica credo che fosse in Serie B quando sei arrivato tu l'Acqua e Sapone quindi ne hai tantissime da raccontare qual è la cosa che in questo momento ti senti di raccontarci, di dirci? Sì, questa è la 12esima stagione, sono arrivato proprio in Serie B nel 2007 e credo che la cosa più bella da raccontare è la crescita sia mia che sia della società perché è quello che abbiamo sempre provato, sempre puntato in crescere e ad essere sempre più grandi perché siamo sportisti e dobbiamo avere sempre un sogno in più Ti senti un po' una bandiera perché, diciamolo francamente, dopo gli addi nel calcio di Totti e De Rossi qualcuno ha detto che Murillo è l'ultima bandiera del calcio, comunque del calcio a C Sì, può essere una bandiera perché mi è sempre piaciuto stare a creare delle radici con le squadre non mi piace saltare da un anno all'altro perché mi piace avere una, non una rotina però vivere bene qua a Pescara si vive molto bene, la società è seria, la gente, conosco molte persone ho delle amici, quindi mi sento molto bene E vorrei rimanere a lungo, no? Nella Questa Poneone Grosse Sì, sì, finché posso e finché loro vogliono sto qua Senti, non ne hanno bisogno perché vi hanno sempre sostenuto però un invito ulteriore ai vostri sostenitori per la partita di sabato? Sì, sì, certo, aspettiamo a tutti sabato alle 5 e mezza di pomeriggio lì a Pala Roma numerosi, calorosi, per dare una grossa mano per noi